Ciao a tutti, vediamo questo prefinale che sfocia in un finale importante di due dame contro due dame e una pedina nel biscacco del bianco Questa è una partita che ho giocato oggi al provinciale di Bologna, io ero nero Ho giocato da questo punto in poi tutte le mosse come il programma, però sono riuscito a perdere nel finale Perché astutamente, avendo poco tempo, il mio avversario mi ha fatto cadere in un tranello abbastanza semplice Io ci sono cascato perché può capitare Questa, questa e questa Io a questo punto però mi sono accorto che il bianco si costruiva un tiro Perché fa la 29-25, dopodiché farà 26-21 Anche se io tento di far dama Rischio di perdere, no? Anzi, forse perdo proprio perché lui con il tiro a 2 va a fare dama Io poi dopo cosa faccio? Ho la mia dama nel cantone Che deve anche uscirne Quindi ho fatto questo sacrificio Che è lo stesso sacrificio che fa il king Il king qua dà valore di pari Valore 1 La partita qua è patta Il mio avversario ha giocato così Ha semplificato Ha fatto questa Io qua mi devo spostare per evitare il tiro a 2 su 18-13 Questa, questa, questa 31-27 11-7 27-22 E poi 17-13 In modo tale che il bianco va a fare due dame Ora qua io ho resistito per quasi 30 turni Cioè 60 mossa in totale Bianco e nero Come vedete qua la pedina nel biscacco può essere bloccata Lui non l'ha mossa E quindi io l'ho bloccata esattamente come state vedendo Adesso qua lui ha fatto tanti giri Io li ho evitati Ho ricostruito un po' la difesa Vedete Tutte queste mosse qua a un certo punto Lui mi ha teso questa trappola 14-18 Io la mossa giusta che dovevo fare era questa E termina patta Anche con il cambio è pari per mossa Vedete Posso anche andare in 18 che è pari Invece Io Come un cretino Ho fatto 26-22 Perché avevo un minuto a cronometro Ero stanco E soprattutto non immaginavo che Che il mio avversario Vedesse una cosa del genere Cioè non ho proprio pensato che Dopo così tante mosse Mi potesse tendere una trappola Ho semplicemente pensato che avesse fatto un errore di distrazione Io faccio questa Lui si lascia mangiare Poi mi fa mangiare la pedina E la mossa è invertita E io vado a perdere Vedete Adesso io ho straperso Questo è un finale Che è da sapere Perché nel biscacco bisogna mantenere Una posizione di difesa Però bisogna anche Le varianti possibili sono molte Bisogna anche evitare dei cambi Per esempio se mi fa questa Con questa vado a pareggiare per mossa Se non me la fa Mi potrebbe far questa Io devo arretrare Potrebbero esserci degli errori Possibili Però generalmente si fa sempre questa Qua per esempio Potrebbe infilarsi Io per esempio se vado qua Rischio Anzi così perdo Perché vedete che Mi ha diviso le dame Insomma E' un finale E' un finale semplice Che però Va giocato con attenzione Adesso il mio maestro Mi sta insultando Mi insulta sempre Perché per lui E' tutto facile Però vi assicuro Che sbagliano tutti Magari lui Meno di altri No lui non sbaglia mai Adesso si incazza Va bene dai Vi saluto Allora questo è il finale maledetto Mi dice Questo è il finale maledetto Siamo sicuri Perché me l'hanno detto Che è il finale maledetto Fa anche rima Me l'hanno detto E io ne ho detto Ma no Il finale maledetto è un altro Invece era questo Però io me lo ricordavo Con più pezzi Questo finale Allora scusa Se è un finale maledetto Perché mi insulti Dici Che poi Ho resistito 30 mosse Dai E' stato un errore Una leggerezza Dai Ho commesso una leggerezza Vabbè Ci possiamo fermare qua Vi saluto Questo era un video Che può servire anche Come Finale teorico Insomma Io video di finali Di Dam e Pedini Ne ho fatti pochi Forse solo uno O due Questo si va ad aggiungere Alla lista Ciao ciao